Ciao ragazze, questa è la nail art che ho fatto per andare a cena fuori con il mio ragazzo stasera spero vi piaccia e se vi piace seguite il tutorial, un bacio, ciao! Allora, abbiamo bisogno di brillantini colorati, a piacere, io lo scelto in blu, di uno smalto bianco e di uno smalto trasparente inizio a prendere lo smalto trasparente e lo passo solo sulla lunetta così una bella quantità poi prendo i miei brillantini blu e immergo il dito vedete, i brillantini sono rimasti attaccati, adesso faccio scendere quelli in eccesso e mi aiuto con un pennellino ecco qua ecco qui, ho fatto tutte le unghie, adesso per evitare che i brillantini vadano a finire su tutto il resto dell'unghia prendo il mio smalto trasparente e vado a fissare solo la mia french blu, brillantinata ecco fatto, ho fissato la mia french adesso prendo il mio smalto bianco e prendo un foglietto di carta adesso non vedrete voi il colore non lo vedrete avete visto che è bianco poi alla fine potete usare il colore che più preferite prendo un pennello lo intingo nel colore e inizio a fare dei puntini partendo dal centro e andando verso i lati cercando di farli il più possibile equidistanti ecco qua continuo così preso tutte le unghie e infine passo il top coat ed ecco qua la mia nail art finita spero vi piaccia vi lascio le foto ciao ciao Grazie a tutti.